Salve a tutti amici, ben ritrovati in questo nuovo video, ma soprattutto bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma prima se vi fa piacere potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale e potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Momento molto delicato per Carolina Marconi, che ha fatto una scoperta non bella durante un controllo per il tumore. Lei oltre due anni fa è stata colpita da un cancro al seno e ovviamente ha necessità di fare esami medici per capire se le cose vadano bene. Purtroppo l'ultima notizia non è stata delle più confortanti, dunque l'attrice è sparita dai social per alcuni giorni perché è molto impaurita. Ma ora ha trovato la forza e le parole giuste per raccontare ai suoi fan cosa le è successo. Carolina Marconi ha fatto un'attacca all'ospedale Gemelli della capitale Roma e qui i medici hanno fatto una scoperta, che andrà approfondita. Il controllo per il tumore non è stato del tutto positivo e lei ha rivelato su Instagram, Buongiorno amici, ho pensato tanto prima di pubblicare questo post ma faccio quello che sento, dico sempre la verità anche perché mi avete fatto tanta compagnia nel momento più duro della mia vita. I risultati sono usciti mammografia, ecco ok ma nell'attacca c'è qualcosa. Il ex concorrente del grande fratello ha voluto sfogarsi con i suoi follower. Carolina Marconi, dopo questa scoperta durante il consueto controllo per il tumore, ha ancora aggiunto, non c'è mai pace e quindi dovrò fare un'altra risonanza con il contrasto X vedere realmente di cosa si tratta, ecco perché sono sparita. È stata una doccia fredda ero spaventata, devo solo aspettare che mi chiamino per effettuare tutto. Ieri quando mi ha telefonato il mio oncologo per dirmi che dovevo fare questo controllo NN vi dico le mie gambe come tremavano, sentivo nuovamente il cuore accelerare e in quel momento tutto quello che stavo facendo improvvisamente NN aveva più senso. Ho avuto un vero e proprio blackout, ancora due settimane cavolo con il punto interrogativo. Precisamente è stato trovato qualcosa di sospetto nel fegato di Carolina, quindi occorrerà indagare di più per stabilire l'origine di questa presenza. E l'ex Jeffina ha ammesso anche le sue inevitabili debolezze? Io sono un soggetto ansioso ma come farò? Bisogna mettersi l'anima in pace, aspettare, pensare positivo e NN sfasciarsi la testa prima di romperla. È dura, durissima perché come una scala della vita che dopo tutti i gradini fatti sai da un lato che manca l'ultimo finalmente ma dall'altro che puoi inciampare in un secondo. Le mie paure però non devono essere più forti del mio inconscio, ora penso solo a stare bene. Lavoro, dipingo metto in ordine casa, il giardino. Cucino, mente libera, inutile stare lì ferma nel letto a piangere. Infine, ha concluso così, mi hanno detto di NN pubblicare niente perché qualcuno potrebbe portarmi Iella. Io credo che chi ha fede e crede in Dio NN dà importanza a queste cose. Condivido con voi tutto questo perché spero che faccia forza e faccia sentire meno soli chi si trova nelle mie stesse condizioni, quindi stringiamoci la mano e facciamoci forza. Grazie, VVB Carolina Tanti VIP e non famosi le hanno mostrato affetto e vicinanza e tutti si augurano che non sia nulla di grave. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.